ladies and gentlemen signori e signori e con grande soddisfazione e eccitazione che andiamo a presentare il campionissimo di oggi signori e signori david martinelli non alzate il volume del vostro televisore tranquilli funziona benissimo avete capito proprio bene è lui è david martinelli se si potesse trovare delle analogie con il mondo del calcio io credo fermamente ne sono convinto che si potrebbe paragonare al numero uno a diego armando maradona perché affermo questo geniale fin da piccolo come lui quando all'età di sei anni suo papà gli costruì un piccolo biliardo su misura pensate talento indiscusso dove la sua immensa creatività primeggia dove l'estro il guizzo il tocco l'istinto fan di lui un genio del biliardo moderno e contemporaneo dotato d'immensa e smisurata tecnica che potremmo definire aliena perché questo signore e signori gentili amici parliamoci chiaro appartiene ad un altro pianeta unisce classi a un carattere forte deciso vincente mai d'uomo riesce anche nelle difficoltà ad uscire brillantemente da delle situazioni di gioco avverse palmarès incredibile campione italiano di seconda categoria fin da giovanissimo poi inizia come un rullo compressore a vincere vincere e vincere campione del mondo campione europeo singolo e a squadre l'elenco di gare nazionali signori miei è lungo è paragonabile ad un encecopediatricano non dimentichiamoci l'ultimo successo strepitoso raggiunto a san vensano se ti chiedessero un giorno in sala chi è davide martinelli ebbene tutti con fermezza e decisione risponderebbero che è il biliardo anche martinelli aderisce al nostro importante progetto e potrai ammirarlo nelle esibizioni presso la tua sala grazie a un piccolo rimborso spese o eventuali sponsorizzazioni potrai avere il genio la classe di david martinelli cosa aspetti non esitare perché amici miei non capita spesso di poter ammirare da vicino grandi campioni di questo calibro che hanno scritto pagine importanti della storia del biliardo italiano ed internazionale credo fermamente e concludo che chi ama l'arte del biliardo adora anche vedere da vicino una bella esibizione di un vero professionista david martinelli grazie a tutti